ben ritrovati a questo nuovo appuntamento del salotto fill the nineties anche se sinceramente io non vedo nessun salotto nessuna scritta qui ai miei piedi regia marta c'è vu caffè la risposta è sempre negativa comunque se faccio così il problema è risolto molto semplice 15 minuti del salotto 15 minuti in cui andare a vedere ascoltare tanta musica come sinceramente non me lo ricordo più no dai sto scherzando 15 minuti con con e non me lo ricordo sul serio facciamo che mandiamo la sigla va sigla salotto fill the nineties con rovi la vila e gli altri la tua musica da youtube in radio e anti tv con lo spazio music free tutto gratuito perché la musica è di tutti salotto fill the nineties salotto io e te salotto mi fai ridere salotto stai con me e come dicevo poc'anzi non è che non mi ricordi gli appuntamenti di questa bellissima trasmissione e che ce li ho scritti qui sulla cartellina lo spazio music free l'artista del giorno lorenzo campani la dance chart con pietro panetta a spasso col vip fabio taormina insieme a marta non lo so so solo chi cantava le canzoni dei puffi chi smilicia e per concludere i nostri saluti schichiri ciao schichiri miau music free dai voce alla tua musica partecipa al music free vinci promozioni radiofoniche del tuo brano su tutto il circuito radio partners fill the nineties e come fare è molto semplice iscriviti al canale youtube roby la ville e manda in posta privata sempre su youtube il link del tuo video sarai contattato e avrai la tua visibilità da youtube in radio e in tv music free dai voce alla tua musica ed ecco a voi i vincitori di questa puntata lo spazio music free è offerto in collaborazione con sound management corporation music free dai voce alla tua musica come from leave my head and i can go home i can't love i can eat i can dream cause i'm just here for you oh 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 Ma tu, ma sì, ma sì, ma sì, ma sì, ma sì, ma sì Anche se tu non torni e poi mi lasci a pezzi Il mondo continuo, sì, ma sì, ma sì, ma sì Guardo intorno, guardo in fondo, guardo dentro me Io so, dov'è la mia novità Rotolando giù dal letto, mi trascino un po' Però, lo so c'è una novità Colore e luce piena, il fiore per la cena E svengo la mia sveglia rincorrendo Quella voglia che mi porta a domani Uccide il tuo demone Ballaci insieme E fare i suoi passi Sì Combatti il tuo demone Scendi i suoi passi Se te lo scambio Come Lui non ha bisogno di presentazioni Diamo quindi subito là E quindi lo spazio là Perché la musica Come so spiritoso Lo spazio La prossima rubrica Lui si chiama Lorenzo Campani Mi trovo con Lorenzo Campani Emiliano Un curriculum artistico pieno di esperienze e collaborazioni prestigiose Da Pasco Rossi ai Club Destino La band storica di Ligabue Maurizio Solieri Passando attraverso stili musicali completamente diversi tra loro Nasce spontanea una domanda Chi è Lorenzo Campani? Io sono una persona che ama fare musica Che ama cantare Che ama esibirsi Questo è il mio habitat naturale Io alla fine Vorrei sempre stare sul palco Dunque Lorenzo Campani È una persona che ama cantare Che ama scrivere Che ama vivere con la musica E accetta quello che la musica gli dà Ciao belli Splendida e malefica follia Di perdersi così Ma perderti perché Che lava via il ricordo Con le lacrime E grida dentro noi Che cosa serve ormai Feel the 90s Da Youtube e Radio e TV Seguici sui nostri social Facebook Feel the 90s Roby Laville Youtube Facebook www.feelthe90s.com Grazie ancora Lorenzo Campani Per essere stato qui nel salotto Che non vedo Non vedo niente Marta Per favore Marta Per favore Marta Ehi la vil E adesso che c'è? Ci va poco alle volte Ringraziato Lorenzo Passiamo a ringraziare qualcun altro Che adesso ci farà ascoltare La musica dance Con la dance chart C'è lui Qui con noi Pietro Panetta Salotto Feel the 90s Il cuore pulsante Della musica Dance 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 Ciao Roby Grazie per la linea E un saluto a tutti i seguaci Di Feel the 90s Andiamo a vedere subito I titoli Di questa nuova puntata Della dance chart E fight fight Yeah fight 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 Con il disco Alex Nois Seduction DJ Gargiullo Fit John Vaccaro Direction Love Beffe Marini Versus RLM Battaglia Carino Alessandro Versus Chico DJ Before we're gone Before we're done Miami Vegas And Robby Laville Let me feel alive E anche oggi tanta bella musica Nella dance chart Solo nel salotto di Feel the 90s Ci vediamo alla prossima Schicchi di ciao Schicchi di mia Mia Mandiamo il video La dance chart Così si ballava un po' Negli anni 80 Anni 90 Salotto Feel the 90s 90 Come gli anni No No Marta mi dice di no Va bene Dai Ci dobbiamo arrangiare Negli anni 90 C'erano anche tanti cartoni animati Lady Oscar Kiss Milicia Cartoni animato Ma anche Telefilm Ma tu lo sai che il padrone del gatto del telefilm di Kiss Milicia Era il mio insegnante di italiano Infatti si vede il risultato Vabbè Questo era per dare la prossima video rubrica Che è Ok C'è lui A spasso con il VIP Fabio Tormina Che intervista Non ve lo dico Rimanete con noi E lo scopriremo insieme Non ce lo dice Ma tanto lo sappiamo Non lo so E Cristina D'Avena Oggi ad a spasso col VIP Sono in compagnia di una donna Che è stata Ed è un mito per l'interne generazioni Io devo essere sincero Sono un po' emozionato nel presentarla Perché per me rappresenta la mia infanzia Lei non lo sa Adesso vediamo anche se sei d'accordo È stata la mia prima fidanzatina Ad a spasso col VIP Un onore Cristina D'Avena Ciao Cristina Ciao Benvenuta Sei d'accordo Io avevo 3-4 anni E per me è la mia prima fidanzatina Sono stata la fidanzata di molti bambini Quindi Cristina Cantante Attrice Presentatrice Scrittrice Adesso anche una linea di scarpe C'è qualcosa che Cristina D'Avena sogna ancora di fare? Sicuramente interpretare un bel musical Mi piacerebbe fare teatro E ci spero tanto Mi sono arrivando un po' di proposte Ancora non sono proprio quelle Non sono ancora giustissime Però arriveranno sicuramente Hai inciso tantissime canzoni E tu hai dichiarato Che per te la tua canzone preferita È Chismi Licia Perché? Perché sono stata Licia Perché fa parte Ecco vedi in questo caso Della mia Di gioventù Perché ero comunque giovane Molto giovane E quando mi chiesero appunto Di interpretare questo personaggio Io in realtà non mi rendevo neanche conto Di cosa stava per esplodere Di cosa stava per esplodere Per cui Io interpretai questo personaggio Appunto Licia E quindi Ce l'ho proprio dentro Dentro il cuore Dentro l'anima E poi non ti nego che Ancora oggi Se mi incontrano per strada Qualcuno mi dice Licia Cioè volevo dire Cristina Cristina io ho un sogno nel cassetto Tu sai che io sono realmente un tuo fan E non sono qui casualmente Cantiamo il ritornello di Occhi di Gatto insieme Vai Uno Due Tre Occhi di Gatto Occhi di Gatto E questo è il nome del trio compatto Son tre sorelle che han fatto un patto Occhi di Gatto Ciao a tutti Grazie Cristina Ciao ragazzi Ciao Grazie E anche per quest'oggi Il saluto Phil De Nantis Termina qui Hai visto che con uno schiocco di dita Si è liberato già tutto lo studio Chissà se lo faccio due volte Se divento più bello per un grosco Come immaginavo Marta è sempre colpa tua Vi ricordo Vi ricordo canale youtube Roby Laville E non essendoci stata Elisette Noi oggi la vogliamo salutare così Con i saluti personalizzati Danzerecci Schicchiri ciao Schicchiri miau Da Roby Laville è tutto Ciao Schicchiri ciao Schicchiri miau Schicchiri ciao Schicchiri miau Schicchiri ciao Schicchiri miau Schicchiri ciao Schicchiri miau Ciao 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 Miau 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 Ciao Ciao Miau 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 E anche oggi abbiamo finito Ma puoi continuare a seguirci Guardando il link dei video Sopra la mia testa Ovviamente se ci stai guardando da youtube Clicca sopra E accedi a uno dei video Se ci segui dalla tv Mi dispiace Vieni a trovarci su youtube Roby Laville Iscriviti al canale E partecipi con la tua musica E dai Iscriviti Commentaci Linkaci Condividici Ciao